Oggi è un rudere, domani chissà. Il futuro dell'Osteria dello Stallone, pezzo pregiato del patrimonio del comune di Margherita di Savoia, passa nelle mani del demanio grazie al progetto Cammini e Percorsi, con l'obiettivo di essere acquisito in concessione variabile tra 6 e 50 anni da privati che vogliano ristrutturarlo e valorizzarlo. Siamo alla fase embrionale di un progetto che completerebbe, una volta portato a termine, il recupero di tutta la zona di Torrepietra. Sono già diventati punti d'accoglienza la chiesetta di San Michele l'ex villaggio dei Salinieri, completamente ristrutturato e diventato infopoint per migliaia di turisti che transitano da queste parti per salire verso il Gargano o scendere a Margherita di Savoia. Io ci ho creduto dal primo momento, ci ho creduto e le cose mi hanno dato ancora oggi ragione, perché lì c'è un infopoint. Intanto il villaggio dei Salinieri è stato ristrutturato a cura del GAL per la cifra di 380 mila euro, quindi è stato sistemato è venuto, abbiamo creato un infopoint, abbiamo creato un centro di documentazione per l'immigrazione e pian piano stiamo arrivando alla ristrutturazione dell'Osteria dello Stallone, Torre di Pietra. Intorno a Torre di Pietra ci sarà, come dire, una sorta di riqualificazione della spiaggia, perché è bellissimo e l'intento è per i posteri di fare un parco marino. In attesa che si faccia avanti il possibile gestore, sono stati definiti i paletti da rispettare nella presentazione del progetto, come ribadito dal dirigente della Direzione Regionale del Demanio di Puglia e Basilicata, Vincenzo Capobianco. Sarà accompagnato da un progetto di valorizzazione, dove soprattutto dovrà essere esplicitata la bontà e la fattibilità del progetto, quindi il ritorno economico che ci potrà essere. Potrà avere una durata da 6 a 50 anni, ovviamente proporzionata all'investimento che il privato si impegnerà a sostenere e prevedrà un canone sicuramente molto basso in funzione dell'investimento che come potete vedere è notevole, l'immobile a dir poco faticente, quindi dovrà essere rivisto strutturalmente e dovrà essere portato ad abitabilità.